Ciao a tutti, io sono Mauro e questo è un nuovo video tutorial sulla preparazione degli sci da discesa. Oggi impareremo a spatolare gli sci. La spatolatura dello sci è un'operazione all'apparenza molto semplice che consiste nel togliere per tutta la lunghezza dello sci la sciolina in eccesso e liberare di conseguenza la struttura dello sci stesso per facilitare la sciabilità e la scorrevolezza dello sci sulla neve. Questo tipo di attività è molto semplice tant'è che è la prima attività che viene insegnata a un principiante o a un ragazzino alle prime armi. In realtà spatolare bene uno sci non è poi così semplice. Parliamo ora della scelta della spatola ideale. Ovviamente sul mercato esistono centinaia di tipologie di spatole. Io consiglio di prestare un minimo di attenzione sullo spessore della spatola. Io normalmente uso spatole di spessore inferiore. Vi spiego il perché. Con spatole di spessore inferiore c'è il rischio nel momento in cui si va a fare la pressione al centro della spatola di incurvare la spatola. Quindi quando andremo ad asportare la sciolina se non stiamo più che attenti o non siamo molto capaci rischieremo di spingere molto solo nella parte centrale dello sci. Questo tipo di azione alla lunga potrebbe portare all'asportazione non solo della sciolina in eccesso ma anche di qualche micron di soletta. Ok prima di tutto bisogna sicuramente avere una spatola che sia affilata e rettificata in modo quasi perfetto. Per rettificare e affilare la spatola esistono sostanzialmente tre sistemi. Il primo sistema che è il più semplice ma anche il meno preciso consiste nel utilizzare una spatola in metallo che va passata sulle due facce della della spatola per togliere le impurità. È evidente che la precisione ottenuta non è ottimale. Il secondo sistema per rettificare una spatola e affilarla consiste nell'utilizzare una lima fresa montata su una sorta di di dima. Il sistema con la lima fresa montata su una dima dà risultati sicuramente ottimi e soprattutto rapidi. Il terzo sistema che vi voglio proporre per affilare e rettificare una spatola è il sistema utilizzando uno strumento elettrico. È evidente che l'utilizzo della fila spatole elettrico è più laborioso rispetto agli altri ma offre dei risultati assolutamente ottimali. Grazie a tutti. molti ski man professionisti preferiscono non utilizzare spatole troppo affilate per non andare a rovinare quella che è l'impronta dello sci ok il banchetto è pronto lo sci sciolinato a posto le spatole sono affilate andiamo a spatolare la prima operazione da effettuare è rimuovere la sciolina dai fianchi e dalle lamine quindi posizionare il vostro sci sulle morse di taglio e procedere all'operazione aiutandosi con la spatola procedere dalla punta verso la coda togliendo la sciolina che si trova sulla lamina prima successivamente andremo a togliere la sciolina che si trova sul fianco è evidente che quando avremo una sciolina calda questa operazione sarà un pelino più complicata mentre quando avremo la sciolina fredda sarà molto più semplice finita questa operazione passeremo con un pezzetto di carta tutta la lunghezza del fianco per pulire ulteriormente lo sci eliminando ogni residuo di sciolina dal fianco dello sci stesso attenzione questa operazione specialmente con la carta va a interferire con il filo della lamina quindi attenzione non passate in maniera troppo insistente sullo spigolo vivo della lamina perché rischiereste anche se si tratta di carta di togliere parte del filo lavorati i quattro fianchi degli sci passeremo alla soletta la prima operazione da fare non è passare subito a sportare la sciolina in eccesso dalla soletta ma liberare dalla sciolina le lamine sempre in maniera molto delicata dalla punta alla coda aiutandosi sempre con la spatola togliere la sciolina in eccesso nella parte della lamina a contatto con la soletta con un minimo di esperienza vi accorgerete che non andrete a togliere minimamente la sciolina dalla soletta e rimarrete solo appoggiati alla lamina basterà avere la sensibilità di inclinare leggermente la spatola in modo tale da seguire il tuning della lamina una delle cose più importanti nel momento in cui ci si appresta a spatolare lo sci è l'impugnatura della spatola nel momento in cui andiamo a spatolare lo sci la spatola rispetto al piano dello sci dovrebbe avere un'inclinazione di circa 45 gradi durante la spatolatura dello sci bisognerà trovare il giusto compromesso tra pressione esercitata sulla spatola che incide lo sci e velocità di avanzamento e soprattutto mano molto molto ferma che arriverà dopo parecchi sci fatti quindi si procederà ad asportare tutta la sciolina in eccesso cercando di non asportare tutta la sciolina in un'unica passata ma concentrarsi su settori di sci 20 30 centimetri al massimo con azioni ripetute ferme e decise per oggi è tutto ci vediamo nella prossima puntata ciao 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 ciao